adesso Cristoforo te riprendi che sono andato anche a rubargli il giaciglio alle mucche e di che si vede la paglia lì sotto scusa tesoro scusa tromba si ma cazzo Giorgio ma se non ti fessi un baceno o l'eserio? nooo diamo fuoco allora via la tecnica del carburatore ok Giorgio? tenete a te all'ospiro al fuoco adesso prende il fuoco la canna a fumaria come la prima volta che aveva acceso il cammino stai riprendendo eeeh che no ai pompieri e che non l'ho usato neanche il sal nitro gli ho detto alla mia vicina di casa guardi che devo tirarsi il bagno e far sentire un po' di rumore perchè devo fare la spagatura probabilmente userò dell'esplosivo adesso io cominciò già ad aver caldo adesso da che macerano che ti fosso? no no non ti fa niente adesso mi tolgo la mutande veloce ma infine Simbia vieni qua con me vieni subito dai vieni con me vieni da alla galleria di Vego l'effetto carburatore Allora, noi tutti siamo...